Di fronte a una sala gremita al sindaco di Fano Massimo Seri e all'assessore alle politiche sociali Marina Barnesi hanno festeggiato 40 fanesi che hanno vissuto in regola nel nostro paese per almeno 10 anni. Durante la cerimonia sono state consegnate ai nuovi italiani una pergamena e una copia della Costituzione italiana. Ricevere la cittadinanza ha un significato profondo, significa comunque sposare quelle che sono le nostre regole, significa sposare le nostre comunità e affianchiamo a questa cerimonia dei momenti per conoscere la città, dei momenti con le nostre istituzioni, abbiamo fatto un incontro per esempio con il vicequestore Serretti per conoscere tutte quelle questioni che riguardano anche la legalità sia sulle politiche del lavoro che sociali e sanitari. Quindi è un momento anche di feste, di gioia, di incontro tra la città e i nuovi cittadini. I nuovi italiani, molti dei quali accompagnati dai familiari, provengono da paesi del Sud America, del Nord Africa e da altri stati europei. Sicuramente li metteranno nelle condizioni di poter sentire la città più vicina anche attraverso le istituzioni che hanno incontrato già mercoledì scorso. Poi ci sarà il 13, l'ultimo appuntamento con i rappresentanti principali della sanità pubblica e anche dei servizi sociali per dare la possibilità davvero di sentirsi a casa loro. E come confermano i dati forniti dalle politiche sociali, il numero di nuovi italiani è in crescita costante. Abbiamo visto che negli ultimi anni il numero dei cittadini stranieri che acquistano la cittadinanza è notevolmente aumentato. Da 240 atti che abbiamo stilato nel 2014, noi a giugno 2016 già siamo a 220 atti. Quindi quest'anno raddoppieremo il numero dei cittadini che acquistano la cittadinanza. La cerimonia si è poi conclusa con l'ascolto dell'imno nazionale italiano. Grazie. 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 Grazie.